200 squadre per 3.000 cestisti e cestiste di età compresa fra i 40 e i 75 anni provenienti da 29 nazioni di ogni parte del mondo. Questi i numeri e la formula di una Pesaro pronta a trasformarsi in una sorta di Olimpiade della Palla Canestro, ospitando il dodicesimo campionato europeo di Maxi Basket. Un evento internazionale che ha avuto a Pesaro il motore organizzativo in Peppe Ponzoni, che oggi ha presentato l'evento all'Hotel Flaminio alla presenza dei presidenti italiano, europeo e mondiale della Fimba, Gianfranco Gianni, Paris Petras e Agustin Lamas. Un evento che la Fimba ha organizzato in sinergia con l'Apa Hotels e che torna a Pesaro dove fu già allestita nel 2008. Nel 2008 c'erano 146 squadre e anche lì è stata una cosa grandiosa. Loro mettono un premio ogni anno sulla migliore organizzazione. Noi l'abbiamo vinta per sette anni di seguito, vuol dire che Pesaro è rimasta nel cuore di tanta gente e magari tanta gente è anche ritornata a questo evento che siamo riusciti a fare strepitoso. Non solo campionato europeo. La formula del Maxi Basket a Pesaro prevede anche un campionato parallelo con dieci squadre provenienti da Brasile, Giappone, Australia, Giordania, Colombia, Costa Rica e Uruguay. Noi avremo un campionato collaterale con una loro classifica che anche loro ovviamente vinceranno e ci saranno le premiazioni, non sarà l'europeo ma saranno nel campionato mondiale laterale. A prendere parte le 600 partite divise fra 20 impianti sportivi pesaresi anche ex professionisti di livello. Noi nell'over 40 abbiamo David Moss, quindi voglio dire abbiamo Giacchetti, abbiamo Cincerini doveva dare l'ok. Quindi insomma giocatori che fino a ieri hanno giocato e hanno voglia di dimostrare ancora che non sono finiti. Questo è anche un po' l'organigramma della vita che a 40 anni non si è vecchi ma ancora si può fare attività ad un certo livello. Al di là dell'aspetto sportivo l'evento rappresenta un grande volano di promozione internazionale per Pesero che ospiterà il campionato fino al 30 di giugno. Si comincia domani sabato 22 giugno alle 18.30 con una parata delle squadre che sfilerà da Piazza Gidefava alla Palla di Pomodoro. Questi momenti non sono solo importanti perché sono legati allo sport che è già un motivo importante ma sono importanti perché ovviamente molte di queste persone è la prima volta che vengono a Pesero e quindi noi ci curiamo che possono poi tornarci. Quindi un grande evento di promozione. Sono molto contento anche del fatto che verrà realizzato una sorta di villaggio dove si è praticamente dietro al vecchio hangar in Piazza Fava dove anche lì tutti gli sportivi o anche le persone che vogliono andare potranno mangiare. Tutte in serie di eventi organizzati ovviamente legati al basket. Pesero e il basket rimangono legati in maniera molto forte ma voglio anche ricordare che eventi come questi sono possibili nella nostra città perché abbiamo sia le strutture recettive in grado di poter ospitare migliaia di persone ma soprattutto negli anni siamo riusciti a realizzare tutta una serie di infrastrutture legate allo sport che consentono di far sì che un evento internazionale importante come questo possa essere fatto a Pesero e quindi una città che ricordo comunque di 95.000 abitanti che però possiede una quantità di impianti sicuramente superiore rispetto a tante altre città che hanno più o meno gli stessi abitanti.